e ciao a tutti ragazzi a voi venite in questo nuovissimo video oggi vi faccio vedere questo nuovo film che mi è arrivato ed è polar express presentato in 3d questo è un film che devo vedere in 3d di tom hanks molto carino questo è la copertina questo è il laterale polar express presentato in 3d andiamo a vedere dietro all'interno della conversione troverete quattro pedali speciali in 3d il film è presentato in 3d nella versione cinematografica originale quindi in 3d e anche 2d in per tutti andiamo a vedere l'interno qui ci sono i paia gli occhialini il blu e il rosso uno va bene l'ha perso e quindi sono 3 the polar express con quel 3d nel rosso ciano come san valentino di sangue macchiali cartonato però voglio vedere se funzionano anche questi occhiali qui andiamo a vedere poi cosa c'è all'interno tutti a bordo di questo gesto natalizio consigli per la visione previsionale ottima da assicurarsi che la distanza non sia troppo illuminata ridurre al minimo il riflesso della luce naturale inutile tv a plasma o lc di standard mode piuttosto che cinema mode quando indossate gli occhiali 3d assicuratevi che la lente rossa copra l'occhio sinistro e la blu e il destro dovremo vederlo in 3d queste sono pubblicità mettiamo il paio di occhialini qui all'interno del disco e questo è il dischetto niente male e niente ragazzi questo era the polar express in 3d mettete vi piace commentare iscrivetevi al canale noi come sempre ci vediamo al prossimo video ciao a tutti belli